Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di... E... I'm the side! Grazie a Daniele lo farò Se mi sveglio so che sarà ok Ragazza Hot Oggi apriamo il video con una pubblicità giapponese della Toyota Wow, una bionda ragazza hot Vi piace vero? Porcellosi che non siete altro Bionda alta, bella, magra, delicata, la vorreste come ragazza, vero? Ops, ragazzi, siete gay, 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 gay Chi è gay? Tu sei gay, anche tu sei gay, pure tu sei gay 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 GAY! non ho niente contro i gay ma tu sei gay dai scherzi a parte non mi piace fare battute omofobe ma l'evidenza dei fatti mi porta a pensare che ti piacciono gli uomini e ormai è troppo tardi scrivere nei commenti ma io lo avevo già capito mentre camminava che non ero una donna Questa pubblicità è stata trasmessa per pochissimo tempo e poi è stata bannata Sinceramente io non ci vedevo niente di male Quindi non cominciate a scrivermi Rispetto ogni scelta sessuale Schianto Diventare genitori è il sogno di Molly Soprattutto di alcuni uomini Che non vedono l'ora di filmare le imprese del proprio figlio Questo simpatico bambino ha pensato bene Che mettersi una valigia in testa e correre per la casa Sia un'idea geniale Ogni genitore sano direbbe No piccolo bambinello ciottolino merdolino Questa non è una cosa giusta da fare Ma ovviamente un padre con la telecamera in mano davanti a suo figlio Non capisce più un cazzo Pensa solo alle visualizzazioni che potrebbe fare su YouTube Vieni figlio mio Corri più veloce del vento perché non posso filmarti nell'altra stanza Boom headshot E il premio padre dell'anno va all'uomo con la telecamera Gatto stupito E per concludere la puntata di oggi andiamo nel regno animale Precisamente in quello felino Ancora più precisamente nel mondo dei gatti Guardatelo questo è il gatto più felice del mondo Cosa avrà mai visto Pensateci la vita dei gatti casalinghi è piuttosto semplice Hanno la loro lettiera Le crocchette gratis E a volte se sono fortunati anche un tiragraff E la cosa finisce lì Portarli a fare un giro in macchina per loro è come visitare lo spazio E rimasta a bocca aperta come se avesse visto il più grosso gomitolo di lana del mondo Come se avesse visto la fabbrica che produce il pesce O un esercito di topi Questo signori è un gatto che sa apprezzare la vita Sono Daniele Doesn't Matter Se il video non ti è piaciuto Vi ricordo che nella descrizione qua sotto di questo video Troverete tutti i link ai video che vi ho fatto vedere in questa puntata E soprattutto come sempre Clicca qui per iscriverti al mio canale Sarò Stupito Come un gatto Vi mando tanti cari saluti Un bacione alla mamma California E al prossimo video Permettetemi di fare una cosa che mi fa sempre ridere